Saluto tutti quanti voi chiaramente per partecipare a questo interessantissimo evento, innanzitutto devo ringraziare Tullio Foa per essere qui presente e ovviamente anche gli organizzatori di questo evento, in particolare Raffaele Indievo che ha voluto fortemente questo evento, è lei che ce l'ha suggerito al gruppo e al Buonaventura Di Bello che organizzerà la videotipresa. Io cito sempre quando facciamo queste riunioni quali saranno gli eventi futuri che sono in base di definizione, definite e che sono in base di organizzazione. Il prossimo evento si avrà dopo Pasqua, il 10 aprile, con la presentazione del libro di Pasquale Carelli, La terra delle piccole lune. Presenteranno questo libro Maria Luisa Mentola e Franco Russo, se non è ancora. Mentre il 17 aprile, presenteremo il libro di Luigi Leuzzi, architettura sagra del megalitismo del Cilento, di regressione in termini di identità, e sarà presentato dall'architetto Baldo, l'architetto Schandri. E infine vi ricordo sempre questo concorso letterario, che è un gioco che facciamo, in cui mi auguro che molti di voi parteciperanno, con un racconto su storia del Cilento, storia del Cilento. Questa è la sinagoga di Napoli, via Cappella Vecchio, una parte della sinagoga, questa è l'interno. Io proietto queste tre o quattro diapositive, perché poi devo fare una domanda a Tullio, più dopo. Ecco, queste sono alcune strade di Napoli, questa è San Marcellino, per chi conosce Napoli, uno dei più belli complessi enormi di San Marcellino. E qui sono le strade, spesso a poco vicino, dove dovevano, la presenza di ebrei a Napoli era molto, abbastanza, diciamo, sentita. Questa è una fotografia che mi ha ricavato Bianca Fasano, che forse Tullio non prevedevo che io la proiettassi. Qui, questo ragazzo qui, è Tullio Fala, scuola di Napoli, Van Vitelli, nel 1942. Va bene, io credo che a questo punto do la parola, interrombo la condivisione, e do la parola a Raffaele Inbeo, che gestirà e modellerà tutta la serata. Va bene? Ciao, Raffaele, a te la parola. Un buon ragazzo, per essere stato presente. Grazie, grazie a tutti voi, intanto buon pomeriggio e vi ringrazio per aver aderito a questo invito e aver voluto anche condividere questa iniziativa con l'Associazione Culturale Progetto Centro, ma anche con quella, ballo, l'ingardo e l'ambro. Associazioni in che veramente si stanno prodigando per la conoscenza storica, in particolare anche, direi più in generale, per la diffusione della cultura. L'incontro stasera con il signor Tullio Foa, che saluto e ringrazio fortemente per la sua consueta disponibilità, io già l'ho conosciuto in un'altra occasione, e offrirà a tutti quanti una testimonianza importantissima e unica in un momento storico in cui c'è tanta confusione e ombre oscurantistiche si fanno presenti e minacciose, seminando odio e insinuando dubbi ovunque. In una situazione come quella che stiamo vivendo, anche per colpa della crisi economica, che è comunque conseguente alla pandemia, siamo tutti diventati più egoisti. Questo forse ci fa vedere di più il pericolo in ogni persona e accentua la diversità sempre di più. E questo rischia di far pendere i punti di riferimento e anche di sminuire la portata di eventi come quelli che dolorosamente sono accaduti e che purtroppo potrebbero ripetersi. Ci auguriamo che mai più avvengano, ma nella memoria di chi li ha vissuti, sono presenti e non potranno mai essere cancellati. Ecco allora che una testimonianza come quella di Tullio Foa diventa preziosa e preziosamente va custodita nel nostro cuore e tramandata affinché quello che è successo non ritorni mai più. Volevo soltanto raccontarvi come ho conosciuto Tullio Foa. È successo di recente perché, come sapete, che insegna, io sono un insegnante, esiste una legge ormai dal 2000, la legge che ha introdotto la giornata della memoria, io mi occupo di organizzare questi eventi per la mia scuola. Parlando con un mio amico, che rappresenta il dottor Roche Pugliese, che è il referente per la Calabria della comunità ebraica di Napoli, chiesi se c'era qualche persona che mi poteva offrire una testimonianza importante per gli studenti. In effetti il signor Foa aderì immediatamente e quindi nei primi giorni di febbraio siamo riusciti ad avere un collegamento con due scuole della Calabria, contemporanea, con più di mille studenti. Quindi questa testimonianza è stata seguita anche grazie alla bravura dell'ingegnere Infantino che è anche qui presente stasera e che ringrazio sempre. Siamo riusciti a fare questo collegamento pazzesco e quindi a far sentire a tantissime persone quello che Tullio Foa ci voleva dire. Posso dire oltretutto che in un sondaggio a seguito di un sondaggio di gradimento che abbiamo fatto nel nostro istituto risulta che l'iniziativa più apprezzata sia stata proprio la sua. I ragazzi hanno apprezzato tantissimo e hanno riconosciuto veramente in una maniera che veramente non mi aspettavo un valore enorme nella sua testimonianza. Poi è chiaro che io, essendo pure campana di origini, ho pensato che questa iniziativa potesse essere duplicata a favore dell'associazione Grando Miningar del Progetto Centola proprio perché ci tengo tanto alle mie radici campane. E quindi la testimonianza adesso che ascolterete, io la sto concludendo, dico solo due cose per introdurre, è secondo me la premessa importante per poter analizzare vicende storiche in una prospettiva che è anche attualizzata, contemporanea. Anche perché adesso, questa testimonianza, leggendola in una chiave moderna, possiamo anche in qualche maniera prevenire i pericoli connessi da eventi negazionistici purtroppo che ispirano prepotenti in Europa. E quindi dico l'ultima cosa. Per concludere, durante la bellissima presentazione la settimana scorsa di Polvere di Storia della scrittrice Bianca Fasano che abbiamo qui in diretta, si è parlato di fonti documentali, dell'importanza delle fonti documentali nella ricostruzione storica, delle vicende storiche. Ecco, noi oggi abbiamo una emozionante testimonianza vivente di una persona che ha vissuto quei fatti, quella situazione storica e proprio per questo è anche uno dei momenti più bui, devo dire, della storia italiana. Un bambino che allora aveva 5 anni, che è appunto Tuglio, che ha vissuto quell'orrore e quindi attraverso di lui rivivremo come in un film le sue angosce, i suoi stati d'animo e anche l'impossibilità di comprendere quello che accadeva, perché era tutto assurdo e faceva parte dell'assurdo progetto dettato dall'odio razziale. Ecco, quindi, le parole che adesso ascolteremo direttamente dalla voce di Tuglio Fuà faranno sicuramente emozionare molti. io vi chiedo di prestare attenzione a tutto quello che dirà pensando che abbiamo quest'onore, questa fortuna, questa possibilità di poter veramente avere un testimone che ci racconti di quel periodo storico. prego Tuglio, a lei la parola. Io volevo innanzitutto ringraziare prima Ezio, poi Raffaella, avete detto delle parole troppo belle nei miei confronti e verso di me e non so se è merito tutto questo. Comunque, io sono qui, mi chiamo Tuglio Fuà, come mi presento sempre, però diciamo che sono Tuglio e basta e io sono qui per raccontarvi una storia di un bimbo che nel 1938 un bimbo di religione ebraica che nel 1938 aveva cinque anni e che si stava preparando per andare in prima elementare alla scuola pubblica l'anno successivo. Ma il governo dell'epoca non glielo voleva permettere e qui vi devo leggere una legge io dico sempre quando vado dai ragazzi quando parlo con le scuole che le leggi sono tutte antipatiche e noiose però io qui ve la devo leggere perché la legge è molto precisa. La legge era così intestata provvedimenti per la difesa della razza nella scuola. Gli articoli sono quattro. Articolo primo all'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado ai cui studi si è riconosciuto effetto legale non potranno essere ammesse persone di razza ebraica. Articolo 2 alle scuole di qualsiasi ordine e grado ai cui studi si è riconosciuto effetto legale non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. E qui io mi ricordo che quando si sentiva parlare di razza ebraica io alla mamma gli chiesi mamma ma te mi hai sempre raccontato che c'era la razza umana e la razza animale com'è questa storia? Non lo so la mamma cosa mi avrà raccontato ma non mi ricordo. Articolo 3 a datare dal 16 ottobre 1938 e questa è una data molto importante per me tutti gli insegnanti di razza ebraica saranno sospesi dal servizio e così i presidi i direttori gli aiuti gli assistenti universitari e anche i bidelli analogamente anche i libri docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libri a docenza. Quarto ed ultimo articolo anche i membri delle accademie istituti associazioni lettere ed arte cesseranno a far parte di dette istituzioni a partire dal 16 ottobre 1938 e così a questo bimbo di 5 anni veniva vietato di andare in prima elementare alla scuola pubblica l'anno successivo se non che lo stesso governo una ventina di giorni dopo cambiò leggermente la legge e disse se in una città si può organizzare solo per la scuola elementare una classe di 10 bimbi e bimbe di razza ebraica noi autorizzeremo ad andare alla scuola pubblica e così fu fatto due le città che si organizzavano in Italia una fu Trento e l'altra fu Napoli Napoli fu scelto come presso scolastico una scuola elementare vecchia molto grande che si trova nella zona collinare di Napoli che si chiama la scuola elementare Luigi Bambidelli se non che all'inizio dell'anno scolastico 1938 39 il direttore della scuola Bambidelli dell'epoca il professore Amedeo Muro che io ricordo perfettamente si accorge che i bimbi di religione ebraica sono nove e quindi non poteva iniziare questa classe della scuola elementare per i bimbi di religione ebraica e da loro fece una cosa che non poteva fare prese il mio certificato di nascita dove c'era scritto Tullio Foix nata a Napoli il 2 novembre del 1933 e volutamente l'esse che era nato nel 1932 quindi con questo stratagemma io improvvisamente da 5 anni ne avevo 6 e però con questo stratagemma io completai questa classe che veniva chiamata la classe speciale degli ebrei il primo giorno di scuola ero molto contento perché andavo a scuola con un fratello più grande con gli amici che incontravo durante le nostre cerimonie religiose il nostro luogo di culto che si chiama sinagoga avevo anch'io la mia divisa come tutti i bimbi e le bimbe avevo il mio gremiolino nero un bel colletto inaminato bianco un fiocco rosso avevo la cartella di tela perché all'epoca il cuore non ti potevi avvicinare per i costi nella cartella come voi ben sapete in prima elementare c'è il silabario c'è il quaderno a righe il quaderno a quadretti sempre a righe grandi a quadretti a grande perché il primo elementare è tutto grande avevamo la penna col pennino perché la penna col pennino perché all'epoca non c'era la penna a birra e noi sul banco avevamo un buco e in questo buco c'era una bolla di vetro con un liquido nero che si chiamava che si chiama inchiostro noi intingevamo la penna col pennino in questa ampolla e scrivevamo sul quaderno e infine avevamo la carta assorbente che per noi tutti è lo scotters quello che abbiamo in cucina che le nostre mogli le nostre mamme ci hanno in cucina no questo è un foglio di carta molto importante per noi perché una volta che avevi intinto la penna nell'inchiostro e scrivevi sul quaderno dovevi asciugare il quaderno altrimenti si macchiava tutto e quindi diciamo però che il primo giorno di scuola è tutto molto bello se non che dopo qualche giorno incominciai a notare qualcosa di strano ora tutte le scuole del mondo io penso hanno un ingresso principale grande e tanti piccoli ingressi laterali che servono come vie di fuga nel caso di incendi o pericoli grave e mi accorgo che da questo cancello principale noi non entravamo solamente noi dieci entravamo da un cancello secondario un quarto d'ora prima degli altri e sempre solo noi dieci uscivamo da questo cancello secondario un quarto d'ora dopo gli altri guardate che questo cancello secondario esiste tutt'ora perché ci entrano i bimbi della materna attualmente noi forse la nostra classe è stata la prima classe mista in Italia perché all'epoca i maschi e le femmine venivano divisi non è che stavano tutti insieme c'era la classe maschile e la classe femminile e noi avevamo una classe di sette maschi e tre femmine prima seconda terza quarta e quinta elementare tutti insieme noi avevamo due insegnanti uno che faceva la prima la seconda e metà della terza e l'altro che faceva l'altra metà della terza la quarta e la quinta la ginnastica la facciamo in classe noi al bagno potevamo andare solamente quando tutti gli altri bimbi e le altre bimbe erano rientrate in classe amici miei questa situazione di essere considerati se vogliamo dire la parola dei diversi eravamo noi dei diversi non poter stare a cinque anni insieme a tutti gli altri bimbi e bimbe è una brutta sensazione è una sensazione che ancora adesso quando ne parlo cerco di essere calmo ma mi provoca un qualcosa di dentro non bello ma io non devo tirare fuori che sono arrabbiato no io devo tirare fuori cose positive a che serve ma io vi devo parlare della mia famiglia la mia famiglia era composta papà la mamma e cinque fratelli io il più piccolo papà funzionario di banca vi ho detto prima ricordatevi la data del 10 ottobre 1938 perché quel giorno papà andò a lavorare è arrivato e gli hanno detto no foa voi da oggi non fate più parte di questa banca papà chiese perché perché voi siete ebreo e papà fu licenziato e papà doveva cercare lavoro in Italia il lavoro non ce l'aveva perché non glielo davano perché ero ebreo e papà partì per l'Africa esattamente per l'Eritrea per Asmara perché l'Africa perché l'Italia aveva conquistato le colonie e si presumeva che per gli italiani ci fosse lavoro e poi anche per i problemi che c'erano in quella regione le leggi razziali non erano arrivate ancora papà è partito nel 1939 e tornato nel 1947 io non lo conoscevo il fratello più grande aveva finito il liceo all'Umberto di Napoli e voleva iscriversi all'università e per la stessa ragione gli fu detto no foa voi non vi potete iscrivere all'università sempre per la stessa ragione perché voi siete ebreo e il mio fratello riuscì a andare negli Stati Uniti dove c'erano una sorella e due fratelli di mia mamma che facevano gli orchestrali mio fratello vive negli Stati Uniti il 3 marzo ha compiuto 100 anni due volte l'anno viene in Italia perché noi fratelli siamo molto legati tra di noi non so se quest'anno verrà se non verrà lui quando è finita questa storia del covid ci andremo noi e quindi a Napoli viveremmo noi quattro con la mamma la prima cosa che fece la mamma fu cambiò casa e andò in una casa più piccola più modesta ogni volta che si tornava a casa si notava la scuola si notava che mancava un quadro un tappeto un mobile deposato importanti insomma la mamma ha venduto tutto quello che c'era da vendere per dare da mangiare a questi quattro ragazzi a un certo punto le risorse sono finite ed allora mi ricordo che la mamma ci riunì una sera in cucina intorno forse all'unico tavolo che avevamo ci sono ragazzi noi dobbiamo trovare il sistema che tutti i mesi c'entrino dei soldi che ci serviranno per pagare l'affitto di casa perché se noi non paghiamo l'affitto di casa ci cacciano e si cacciano non sappiamo dove andare all'epoca se non pagavi l'affitto ti cacciavano oggi se non paghi l'affitto continui a rimanere in casa e sono la vita che è cambiata e allora fu deciso di affittare una stanza noi avevamo già una casa di tre stanze in una viveva la mamma e in una vivevano noi quattro ragazzi e venne questo signore un signore alto giovane lo ricordo benissimo dovete sapere che il governo non ci riteneva degni di avere la radio e questa è la parola voi ebrei non siete degni di avere la radio e quindi una mattina sono venuti due funzionari della questura del partito due funzionari e sono venuti a prendersi la radio quindi noi la radio non l'avevamo la televisione non esisteva i giornali scrivevano quello che il regime imponeva di scrivere le notizie vere della guerra non si conoscevano però c'era una radio clandestina una radio clandestina che trasmetteva da Londra dove c'era uno speaker inglese che parlava l'italiano perfettamente questo speaker che si chiamava il colonnello Stevenson si inseriva sulle frequenze radio italiane a sera tardi e trasmetteva dei messaggi incomprensibili e si presentava in questo modo quattro colpi di tamburo quindi tan 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 e poi sentivi qui radio londra vi parla il colonnello Stevenson e poi dei messaggi incredibili i messaggi di questo tenore a Napoli il sole sorge a mezzanotte oppure siccome tra l'annunziata c'erano i passifici gli spaghetti dove l'annunziata non sono più buoni erano dei messaggi che agli orecchi delle persone normali come più o meno eravamo normali noi anche se non eravamo troppo normali agli occhi degli altri erano incomprensibili ma erano dei messaggi precisissimi che venivano mandati alla resistenza che si stava organizzando per cacciare i tedeschi che il sole a Napoli sorgeva a mezzanotte perché a mezzanotte sarebbe passato probabilmente un aereo e avrebbe accaduto la tarbia e quant'altro per i partigiani e che gli spaghetti dove l'annunziata non erano più buoni perché da Londra avevano capito che quella rappresaglia che i partigiani stavano organizzando contro i tedeschi era stata scoperta dai tedeschi allora loro da Londra con loro servizio segreto dicevano gli spaghetti dove l'annunziata non sono più buoni non facevano capire e la mamma si accorge che questo signore che è venuto a casa aveva una radio e sentiva Radio Londra allora gli disse guardi cortesemente lei deve andare via io ho quattro ragazzi piccoli siamo nell'occhio del ciclone siamo controllati in continuazione se si scopre che in casa nostra c'è qualcuno che sente una radio clandestina com'è Radio Londra andiamo in conto dei pericoli grossissimi questa persona andò via a fine guerra l'abbiamo rivisto io vi dico il nome e poi per quanto riguarda i giovani che si sono collegati con noi saranno gli insegnanti che spiegheranno chi era questa persona questa persona era Franco Calamandrei il figlio di Piero Calamandrei Piero Calamandrei ragazzi è stato uno di quei politici che dopo la guerra unito unendosi con altri politici hanno scritto quella costituzione la costituzione italiana quella costituzione che è ancora in atto sempre la stessa malgrado gli sforzi di alcuni politici che vorrebbero cambiarla a loro piacimento ma io mi auguro che ne riusciranno mai ma le deportazioni devono partire da Napoli il colonnello Spolo comandante comandante tedesco nazista comandante della regione Campania aveva organizzato tutto con cura come quando lo organizzano normalmente quando i tedeschi devono pensare a qualcosa lo fanno con essere per preciso aveva requisito due carri bestiame li aveva fatti piombare in modo che chi entrava dentro non poteva più uscire aveva scelto il giorno per andare a rassellare gli ebrei napoletani e qui secondo me ha fatto un ragionamento giusto perché lui avrà pensato i cattolici quando vanno a pregare la domenica gli ebrei quando vanno a pregare il sabato se io il sabato vado nel loro luogo di culto in un colpo risolvo una parte dei miei problemi i miei problemi erano quelli di prendere gli ebrei napoletani ed era sicurissimo che sarebbe stata un'operazione semplice tanto che avrà deciso che doveva allietare questo rassellamento degli ebrei napoletani con una musica e aveva scelto anche la musica era una lacrimosa dalla messa di Reque in Re minore di Mozart pensate che animo gentile poi ha anche pensato i napoletani sono indolenti quando dico i napoletani io dico gli abitanti della campagna i napoletani sono indolenti i napoletani sono abituati al dominatore di turno i napoletani sono staffottenti per me fare questa rassia sarà una cosa semplicissima e qui ha sbagliato perché ha sottolineato l'orgoglio e l'eroismo dei napoletani perché grazie alle quattro giornate di Napoli grazie all'insurrezione popolare i tedeschi sono stati cacciati da Napoli perché quando sono negati alleati in campagna la campagna era libera ma noi dobbiamo ricordare che insieme ai partigiani che hanno liberato la campagna e che hanno dato la vita ci sono stati anche dei ragazzi e delle ragazze che hanno dato la vita Gennarino Capozzo aveva undici anni e mezzo e sul ponte della sanità imbracciò il fucile e sparò contro i tedeschi e una raffrica di metallatrice lo uccise ma ci furono anche le scugnizze e diciamoli queste cose Maddalena Maddalena c'era giuseppino aveva quattordici anni Maddalena sì Assunto Giordano ed Eva Vittorio ne avevano quindici di anni Speranza Turbone aveva diciotto anni ragazzi tutte queste persone che io chiamerei eroi hanno dato la vita per dare prima a noi la libertà e la democrazia ma per darla a voi perché se voi oggi potete andare dal vostro dirigente scolastico bussare la porta e andarci a parlare e così col sindaco col prefetto col comandante dei carabinieri lo dovete a queste persone a questi eroi che hanno dato la vita ma le deportazioni sono partite da Roma e sono state molto pesanti a Roma sono state rastrellate 1752 persone di regione ebraica e sono tornate in 118 in tutta Italia sono state rastrellate 8625 persone di regione ebraica e sono tornate in 1017 ma la cattiveria più grande è stata la razzia romana dei 221 bambini sotto i 10 anni che sono stati strappati ai genitori e non sono più tornati vi leggo qualche nome così vi rendete conto il più piccolo era appena nato aveva poche ore di vita i genitori non hanno fatto a tempo a dargli un nome e quindi si chiamava abbiamo solo il cognome si chiamava Diveroli che male possa aver fatto un bimbo di poche ore io non lo so andando avanti con l'età Giovanni Di Castro aveva 18 giorni Carlo Fornari aveva 4 mesi Bruno Moscati aveva 4 anni Leone Vivanti aveva 6 anni e la più grande Arvina di Consiglio che aveva 10 anni questi 221 bambini avevano una colpa la colpa di essere nati da due genitori di religione ebraica e quindi erano anche loro di religione ebraica ma questa è stata una cattiveria grandissima e io dico non deve mai più capitare perché i bimbi non si toccano non si toccano mai ecco e io però dico anche che noi non possiamo non dimenticarci di chi è tornato dai campi di sterminio che non ha avuto una vita facile abbiamo notizie dello scrittore Primo Levi scampato a un campo di sterminio è tornato a casa dopo un certo periodo di tempo non lo riconosceva perché lui si era salvato dai suoi amici no e si è tolto la vita e le persone che sono tornate da questi campi di sterminio hanno avuto grossissime difficoltà e avevano ricordi c'era il signor Scromo Venezia un signore che è morto di morte naturale qualche anno fa che parla dell'inferno e dice l'inferno qualsiasi persona lo conosce dai libri noi l'abbiamo vissuto poi c'è la signora Lina Navarro che dice un rimorso mi è rimasto nel cuore dopo la selezione non mi sono mai girato a guardare mia madre io penso che lei con i suoi occhi mi abbia cercato mi avrà supplicato di voltarmi per guardarla l'ultima volta ma non sono riuscita non sono riuscita più a girarmi poi c'è una parola che chi è stato in un lago di sterminio è una parola molto pesante molto forte la selezione c'è una signora polacca che dice la selezione che per tutti è una parola qualsiasi per chi è stato in un lago di sterminio è una parola così tragica che si fa fatica davvero soltanto a nominarla è un momento che mi accompagnerà fino alla fine dei miei giorni ricorderò sempre lo sguardo disperato di mia madre che quando già aveva imboccato la fila di sinistra al certo punto si è girata per salutarmi ancora aveva 44 anni infine c'è Piero Terracina Piero Terracina era un signore romano che è morto l'anno scorso di morte naturale e aveva una grandissima famiglia faceva parte di una famiglia ebraica romana una delle più grandi famiglie romane tutti loro tutta la sua famiglia compreso lui sono stati presi e portati in un campo di concentramento l'unico sopravvissuto è Piero prima della sua morte il presidente della Repubblica federale tedesca ha concesso a Piero un'altissima onorificenza perché tutti gli anni Piero accompagnava le scuole a visitare i campi di sterminio e tutti gli anni andava nelle scuole a parlare come ci vado io e come ci vanno tanti altri amici sparsi in Italia nella regione ebraica c'è una consuetudine che si tramanda da padre in figlio quando un figlio o una figlia escono di casa per andare a lavorare in un'altra città o quando un figlio era una figlia devono subire un intervento chirurgico e consuetudine di noi genitori di porre le mani sul capo del figlio o della figlia a tipo benedizione dice Piero mia madre mia madre ci abbracciò e ci mise le mani sul capo per darci la benedizione aveva capito che è arrivata la fine e disse non ci vedremo più i tedeschi urlavano bastonavano e mia madre ebbe paura ebbe paura non per lei ebbe paura per noi e disse adesso andate non l'ho più vista io mi avvio mi sto avviando alla conclusione ed è mio consuetudine prima di chiudere il mio intervento di rivolgermi prima agli insegnanti che siete voi voi insegnanti e poi ragazzi agli insegnanti vorrei leggere una lettera che un presidente polacco scampato al campo di sterminio scrive il primo giorno di scuola agli insegnanti di tutto il mondo per augurargli un buon anno scolastico la lettera recita così caro professore sono sopravvissuto di un campo di concentramento i miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere camera gas costruite da ingegneri istruiti bambini uccisi con veleno da medici ben informati donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università diffido dunque dalla istruzione la mia richiesta è aiutate i vostri allevi a diventare esseri umani i vostri sforzi non devono produrre dei mostri educati degli psicopatici qualificati degli Eichmann istruiti la lettura la scrittura la ritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani e io concludo il mio intervento rivolgendomi ai ragazzi presenti in questo collegamento vi ringrazio di essere intervenuti a sentire questa storia di questo bimbo che aveva cinque anni ma io vi devo dire qual è stato un giorno molto bello per me quando sono arrivati gli alleati a Napoli e Napoli era libera ricordiamoci era libera io l'ultimo anno degli elementari l'ho fatto alla scuola Van Vitelli entrando e uscendo sempre da quel canicello secondario ed eravamo rimasti in quattro quando sono arrivati gli alleati gli alleati si sono dati da fare per riaprire le scuole per riaprire la vita civile che eravamo bloccati da anni e quindi hanno riaperto le scuole e io questa volta sono andato al liceo Sanazzaro che è un altro liceo nella zona collinare di Napoli e quel giorno ero emozionato come forse lo sono ancora adesso a quel ricordo perché io sono entrato dal canicello principale non dal canicello secondario e sono entrato insieme a tanti ragazzi e tante ragazze ed ero frastornato emozionato però entrando a scuola avevo capito due cose che avevo riacquistato la mia libertà ma soprattutto avevo riacquistato la mia dignità che nessuno era riuscito a distruggere però grazie allora voi vi rendete conto che questa testimonianza è una testimonianza forte io per la seconda volta piango sentendola perché è inutile che qui qui è tutto tutto così molto spontaneo però le cose belle e drammatiche che vengono fuori da questo racconto ci servono veramente a riflettere su quello che può essere l'uomo quanto può essere crudele l'uomo ecco e la cosa interessante di tutto questo discorso che il signor Foa che Tullio racconta quasi giornalmente agli studenti perché la cosa importante da dire è questa cioè lui sta facendo di questo di questo suo di questo suo vissuto mi ha fatto proprio una ragione di vita perché racconta gli studenti di tantissime scuole d'Italia con una anche con una dedizione incredibile perché voglio dire è stancante fare ogni giorno questo lavoro racconta la sua storia quindi è bellissimo questo nello stesso tempo molto molto triste ma necessario racconto necessario lo definisco Tullio quindi io la ringrazio anche per questo è molto faticoso e mi rendo conto mi rendo conto ci rendiamo conto e quindi anche per questo la ringrazio io ti spiego sempre io sono l'ultimo rimasto a Napoli di quel periodo per cui alle scuole voi insegnanti avete un tant'am tra di voi avete il mio numero di telefono sapete che io sono facilmente raggiungibile io sono disponibile però molto faticoso perché non è facile raccontare queste storie non è facile raccontare questa storia io non sono un politico quindi non sono abituato a parlare alla gente al microfono peggiora la situazione e certe volte l'emozione ti prende io ho il mio bicchiere d'acqua sempre pronto per bere perché io non devo trasmettere molta emozione a chi mi sente dall'altra parte se no cominciamo a piangere tutti quanti e non si va né avanti né indietro devo cercare di essere il più sereno possibile però vi garantisco che è molto faticoso però lo faccio molto volentieri e lo dico sempre alle scuole io quest'anno rispetto all'anno precedente che non ho fatto di più sempre ho fatto 37 scuole quest'anno quindi non sono poche con questo strumento infernale che io lo considero un strumento infernale però se non ci fosse stato questo strumento il tablet non si poteva fare niente perché da vicino non si può fare dico sempre alle scuole ragazzi sfruttatemi perché fin quando io ce la farò e che ragazzi non vi dimenticate che ho 88 anni però ecco fin quando ce la farò e fin quando la testa funziona perché se oddio io sono tranquillo che la testa dovrebbe funzionare sempre perché la mamma è morta che aveva 103 anni lucidissima in casa nostra Alzheimer non c'è però c'è sempre un detto che dice c'è sempre una prima volta io mi auguro che non sia per me e quindi mi auguro di continuare come fanno i miei fratelli in altre città d'Italia di continuare a venire raccontare perché ragazzi la memoria è una cosa importante è molto importante d'altronde Liliana segue che cosa ha lasciato la memoria ti dice è l'unico vaccino contro l'indifferenza io lo trovo giusto quello che dice Liliana Segre che io ho conosciuto perché abbiamo fatto questo filmato insieme questo documento film una gran bella persona una bella donna però Liliana ha deciso di non andare più nelle scuole anche sì c'è qualche anno e più di me però voi forse non lo sapete ma Liliana fin quando andava nelle scuole andava con la scorta perché la minacciavano e noi napoletani abbiamo la sinagoga che è a Cappellarecchio una travessa di piazza dei martiri quando ci sono le nostre cerimonie religiose saremo 20 30 al massimo ci abbiamo i soldati che ci difendono dalla mattina alla sera ma vi sembra bello questo ma prende fate un minuto col cervello andate in chiesa e trovate i soldati che vi difendono è una cosa incredibile siamo nel 2021 santi Dio la guerra è finita da 70 anni da 80 anni a quanto tempo è finita e ancora si devono sentire queste cose io certe volte non riesco a capire queste cose va beh andiamo avanti vai lasciamo perdere no comunque comunque no capisco perfettamente la difficoltà però ecco proprio per questo ancora più pregevole il suo intervento perché ci consente di ragionare ancora una volta su queste tematiche io a livello personale lo faccio già da diversi anni e l'ho detto anche qualche volta portando i ragazzi ad Auschwitz Birkenau sono già tre volte che due volte siamo andati ad Auschwitz una volta a Peregine quindi perché secondo me la visione diretta di quell'orrore è necessaria per comprendere i giovani è veramente cioè sembra incredibile che esistano che siano esistite quelle cose quindi io vedo che qui tra il pubblico ci sono diversi insegnanti penso che se non l'avete ancora fatto sarebbe interessante fare questo tipo di esperienza perché i ragazzi hanno veramente bisogno di capire e lo possono fare andando direttamente rimanendo anche forse scioccati perché è inutile dire che si va a fare un viaggio terribile un viaggio che rimane nel cervello nella mente nel cuore di ognuno io non c'è gioco nella mia vita che non pensi a quello che ho visto però ripeto è necessario e a questo punto proprio perché non voglio non voglio insomma lasciare non voglio che la cosa vada per le lunghe perché il signor Fuazio ha già parlato facciamo intervenire qualcuno per fare degli interventi il primo che si è però dato è il signor Angelo Gentile quindi risposta Gaffaello se è possibile la domanda di sovrappensione se è possibile sì se è possibile averla anche scritta direttamente nella chat io purtroppo non avendola non conoscendo se la domanda è breve magari la facciamo dire anche l'intervento la risposta facciamo in modo tale che il signor Fuazio è abbastanza molto affaello se non capisco la domanda lei me la ripete quindi siamo a fuori assolutamente sì ok va bene allora signor Gentile prego allora parlo da ex docente da ex dirigente scolastico perfetto la professore purtroppo devo dire perché la sua presenza in una scuola sicuramente sicuramente sarà diciamo così non solo ben accetta ma soprattutto interessantissima il suo intervento è stato chiaro mi è piaciuto quel sereno perché è esatto è la parola esatto su un argomento che è difficile è durissimo la mia domanda è questa mi potrebbe dare il suo numero telefonico e la sua email anche attraverso Ezio perché tra un po' di tempo presiderò un club del Rotary e vorrei organizzare un incontro con lei non c'è problema se lo faccia dare da Ezio tutto quello che il numero di telefono mandameli sulla mia email per cortesia perché ci tengo veramente mi è piaciuto tantissimo complimenti Ezio se voglio dire Ezio c'ha tutto quindi si faccia dare da Ezio tutto quello che ha bisogno e poi mi chiamo lei sta a Napoli sto a Salerno ah vabbè quindi non c'è problema vabbè non c'è problema no grazie benissimo benissimo allora Ezio mi consenti io seguo un attimo un ordine perché mi stanno arrivando le domande vuoi intervenire tu prima e poi facciamo intervenire le altre persone no 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 io 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 allora seguiamo un attimo qui adesso c'è per esempio Buonaventura di Bello che sta registrando e quindi non può intervenire non può interloquire con lei mi chiede di fare io la domanda al suo posto e vorrebbe sapere qual è la sua visione della vita e rivelarci cosa gli ha permesso che cosa ha permesso lei nonostante la sua terribile esperienza e anche la sua età rispettabile di essere ancora oggi in grado di trasmettere la sua bellezza interiore e la sua vitalità è una domanda da un milione di dollari rispondo con estrema semplicità prima di tutto ricordati che quando sono stata emanata in legge anziana avevo 5 anni quindi capivo e non capivo quello che succedeva poi noi abbiamo avuto una mamma meravigliosa che la chiamavamo la domatrice perché aveva a che fare con 4 ragazzi di età differente e in momenti particolari doveva usare dei sistemi abbastanza energici altrimenti e quindi però noi dobbiamo ringraziare la mamma perché quello che ha fatto lei ci ha creato ci ha tirato su con dei principi sanissimi e soprattutto con la sicurezza che il periodo sarebbe passato e sarebbe finito tutto poi bisogna anche dire che noi avevamo il nonno materno che è stato il rabbino di Napoli dal 1907 al 1941 che è morto di morte naturale rabbino lo possiamo paragonare a cardinale se vogliamo tanto per capirci e ci ha sempre inculcato fede che sarebbe passato sarebbe finito quindi tra la mamma e il nonno abbiamo avuto solamente degli incoraggiamenti che sarebbe passata con durezza però che avremmo passato dei momenti duri come ci sono stati purtroppo però che sarebbe tutto finito però è una cosa vi devo dire che cosa ci è mancata a noi ci è mancata la mancanza di notizie di papà e del fratello di papà in Africa e del fratello in America perché la posta non arrivava e avevamo solamente una possibilità una volta al mese un bolletto attraverso la croce rossa internazionale un bollettino di dieci parole e in questi dieci parole la mamma dovrà dire a papà e al fratello che eravamo tutti vivi che nessuno perché non ci dimentichiamo che Napoli insieme a Genova e a Bari sono state le tre città più bombardate d'Italia perché ricordiamo che c'era un porto c'era una raffineria c'erano le industrie e i bombardamenti erano l'ordine del giorno le morte erano morte del giorno e vi dirò di più che il fratello che sta in America il centenario dato che io vi ho detto che ha compiuto cento anni il 3 marzo quando dopo la guerra ha ricevuto la prima lettera dall'Italia non ha avuto il coraggio di aprirla perché aveva paura di leggere che qualcuno di noi era morto sotto un bombardamento poi un suo collega dell'università un cinese che è ancora in contatto con lui che ha 104 anni perché qui si arriva sempre da cento anni in su si va sotto i cent'anni non sono ben accetti e lui gli ha detto Mario lui si chiama Mario mio fratello ma abbiamo insieme questa lettera e lui lì ebbe il coraggio di aprire questa lettera con un sospiro di solleo che noi eravamo tutti vivi ecco la mancanza di notizie perché poi io capisco che oggi per parlare con gli Stati Uniti c'è delle selezioni e ci parli direttamente ma all'epoca per fare una telefonata da Napoli a Casetta che sono 19 km c'è altre volte si aspettavano anche 3-4 ore che il centralino ti desse la linea quindi ragazzi vi dovete comprenetrare che il periodo era quello il periodo delle difficoltà c'è niente da fare non ho sentito tu che cosa ha detto tu ti ringrazio io ho detto va bene grazie ok ok va bene adesso ci sarebbe Maria che vuole fare una domanda Maria Maria vorrei se è possibile fare due domande vorrei già dire che le mie domande non saranno un imperativo kantiano quindi se lei non vuole rispondere comprenderò perfettamente allora da storica io ho fatto una tesi di laurea sul processo di Norimberga il processo Eichmann quindi vorrei fare un piccolo inciso Eichmann era tutto tranne che istruito si vede anche nelle fasi processuali che non sapeva quasi quasi neanche la propria lingua madre comunque il piccolo inciso è stato la prima domanda sarebbe questa sono con Raffaella abbiamo condiviso l'avventura l'esperienza di andare a visitare il campo di concentramento di Auschwitz Birkenau ora studiando su questo campo di concentramento anche nella tesi o a posto un appendice secondo lei sarebbe meglio continuare a denominarlo Auschwitz quindi con il nome dato quindi dai tedeschi dai nazisti oppure sarebbe meglio ritornare a richiamarlo con il nome originario quindi la seconda domanda sarebbe in virtù di ciò che la sua generazione ha dovuto passare cosa ne pensa di ciò che sta accadendo in Israele invece nei confronti della Palestina di una domanda grazie mille rispondo prima la prima e poi la seconda perché io non mi ritiro non scappo di fronte alle domande magari non sono in grado di rispondere a una domanda ma questi due sono in grado allora per quanto riguarda il campo di concentramento il campo di Auschwitz deve rimanere così com'è deve rimanere così perché deve essere un ricordo perenne per tutte le scuole per tutte le generazioni che vanno a visitare e non deve essere cambiata assolutamente perché devono vedere le brutture che succedevano in quei campi devono vedere tutte le scarpe accantonate devono avere i capelli accantonati devono vedere gli occhiali accantonati devono vedere non dico toccare con mano perché non potranno toccare ma devono avvicinarsi e guardare e rendersi conto che cattività e cosa è successo per quanto riguarda la seconda domanda riguardante lo Stato di Israele io le dico con molta franchezza che alcune cose sullo Stato di Israele io non sono d'accordo a prescindere il fatto che io sono un cittadino italiano che ha fatto il servizio militare in Italia e quindi ho giurato ho fatto il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana quindi più italiano di me io penso che non ci sia allora da quando quando è nato lo Stato di Israele nel 1948 prima di allora israeliani e paesinesi convivevano benissimo poi è nato lo Stato di Israele e sono arrivati in Israele una quantità di gente che veniva dall'Europa dell'Est lo sappiamo e soprattutto sono arrivati degli scienziati gente che ha reso un terreno arido l'ha reso un giardino hanno creato induzze e tutto chiaramente le forze le grandi potenze incominciano a intrufolarsi perché anche loro vedono il bisogno di sfruttare questo o quell'altro e purtroppo nasce è nato questo conflitto tra israeliani e arabi però io sono d'accordo che devono dare lo Stato agli arabi lo Stato loro perché è giusto che ce l'abbiano perché anche loro vivono lì da centinaia d'anni per cui se questa è la domanda che lei mi aveva fatto io ho risposto se non è questa me la rifa e io cerco di rispondere in un altro modo più o meno è questa la domanda che mi aveva fatto Maria sì ok è stato conosco no perché siccome c'è una storia io nella vita mia studioso sono stato bocciato parecchie volte allora io adesso quando ho degli insegnanti di fronte mi devo togliere i sassolini dalle scarpe scherzo perché adesso bisogna anche scherzare no che diavolo no penso che sia stata sia stata esaustiva la risposta Maria anche perché insomma hai preso proprio un argomento che insomma è piuttosto denso di contenuti però insomma Tullio ha dato una risposta che secondo me accontenta sicuramente ti accontenta quindi va bene benissimo adesso ci sarebbe Francesco Pio Carrino e poi la parola ad Ezio perché concludiamo facendo riferimento per me possiamo parlare ancora un altro bochino se ci sono altri interventi faremo riferimento a un personaggio del Cilento a un signore che si chiamava Giuseppe Veneroso che a suo modo può essere considerato un eroe un eroe perché ha salvato migliaia di ebrei forse lei non lo sa Tullio di questo fatto e quindi ne parliamo attraverso poi le parole di Ezio e di un'altra persona il signore che l'ha conosciuto questo è bellissimo di Iannone il signor Maurino mi pare Maurino Massimino è Iannone però questo lo facciamo fra qualche minuto adesso facciamo intervenire Francesco Pio Carrino con la sua domanda e poi passiamo a questa domanda anche io volevo fare una domanda l'ho scritta allora aspetta un attimo io leggo adesso il signor Carrino e poi ecco qui ecco ce ne sono diversi hai ragione eccolo lì allora incominciamo con il signor Carrino lo dico subito come abbiamo superato la cosa economica dall'Africa ogni tanto arrivavano 500 lire perché qui all'epoca c'erano le lire e i centesimi poi i miei fratelli più grandi quelli non abbiamo capito la domanda studio non abbiamo capito la domanda che ti ha fatto Carrino ma è stata chiesta e se te lo dico io hanno chiesto come vivevamo noi come economicamente vivevamo avanti in casa allora io sto rispondendo a questa cosa qui sto dicendo che papà dall'Africa ogni tanto arrivavano 500 lire perché all'epoca c'erano le lire poi c'erano i due fratelli più grandi 13 anni e 11 anni che lavoravano quello di 13 anni era stato assunto da una ditta di spedizione napoletana amica di famiglia logicamente che non poteva utilizzare l'assunzione di un ebreo e quello più piccolo di 11 anni invece si era inventato un lavoro oggi noi se abbiamo bisogno di un certificato di nascita con state di famiglia che facciamo o andiamo in comune o per fare prima Raffaella spingi il microfono per favore Raffaella spingi il microfono posso? allora dicevo mio fratello oggi se abbiamo bisogno di un stato di famiglia un certificato di nascita o andiamo in comune o se vogliamo fare prima andiamo da un'agenzia e ce lo facciamo fare lui si era inventato un'agenzia volante faceva il giro del quartiere andava dalle signore specialmente i primi giorni di scuola bisogna portare certificati di nascita e quant'altro le signore gli ordinavano questi certificati lui li andava a fare e gli regalavano dei centesimi non lo so quanto che lui dava la mamma per il sostentamento poi c'è stato qualche parente a Napoli che ci ha aiutato e così siamo andati avanti poi la seconda domanda però non ho fatto a tempo a leggere perché è partito lo scritto allora sempre parliamo della seconda domanda del signor Carrino a me non risulta risulta non lo so era la domanda del signor Carrino questa a me sembra quasi che no penso che abbiamo saltato l'ordine secondo l'ordine che leggo qui ci sarebbe Andrea Luise adesso se posso pochi secondi non sono domande ma volevo intanto esprimere una profonda emozione che lei mi ha creato ed è piuttosto raro diciamo delle emozioni così reali e poi le immagini usate rimarranno l'immagine del cancello principale che si apre davanti al ragazzo è un simbolo fortissimo veramente prezioso altrettanto prezioso il collegamento con l'oggi penso che riferimento alla scorta armata nelle cerimonie della sinagoga di Napoli di oggi ci riporti con un cortocircuito terribile quindi per i giovani soprattutto è prezioso anche questo che ha detto concludo confermando la mia ammirazione per l'aspetto della cultura ebraica sul dovere della memoria dovere della memoria che per tanti hanno adesso scignottato con diciamo istituzioni sulla memoria sulla memoria la cultura ebraica l'ha esercitata sempre e ho tutto il mio apprezzamento grazie 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 Raffaele Riccio volevo scusi Raffaele sì sì io siccome ho avuto il piacere di conoscere Liliana quando Liliana segue quando abbiamo due anni fa abbiamo fatto parte di un documento firme i figli del destino non so se l'avete visto chi l'ha visto chi non l'ha visto dove praticamente la Rai aveva commissionato a un regista un qualche cosa da lasciare da mettere nella cineteca della Rai cioè praticamente voleva raccogliere le storie di quattro ragazzi dell'epoca che erano dislocati nelle varie regioni d'Italia perché noi sappiamo che a Napoli la guerra è finita presto a settembre il 43 è finita ma a Roma è finita dopo in Toscana dopo ancora in Lombardia dopo ancora e quindi ci sono state queste quattro persone e il regista dopo un colloquio che ho avuto con me ha creduto opportuno di farmi partecipare a questo documento firme e io ho avuto modo di conoscere Lia Levi la scrittrice Lia Levi che ha partecipato al docufilm per quanto riguarda la campagna poi c'era Guido Cava che era il presidente della comunità ebraica di Pisa che poi c'era Liliana Serge per quanto riguarda Milano e devo dire che io quando ho conosciuto Liliana mi ero preparato perché gli volevo fare delle domande volevo volevo avere delle spiegazioni non lo so nemmeno quello che volevo volevo sapere qualcosa e quando ci siamo incontrati io sono andato in conto per fare le domande ma siamo arrivati ad un certo punto che eravamo abbracciati tutti e due e nessuno parlava e nessuno ha parlato perché l'emozione è stata talmente grande da parte mia e da parte sua che nessuno ha detto niente tutti e due muti e non ci siamo detti niente però in seguito io mi sono scritto delle cose che dice Liliana Liliana per esempio ha lasciato detto ha detto una cosa che è un tipo molto semplice non era complicato io sono arrivato comunque eh Liliana ha lasciato detto ha detto questo dice se tracciamo un legame ideale tra la persecuzione che lei ha subito e i nostri giorni dice stiamo morendo tutti noi testimoni siamo rimasti pochissimi e poi fa anche la battuta spiritosa e quando saremo proprio morti tutti completamente il mare si chiuderà nell'indifferenza e nell'indifferenza sopra di noi come sta facendo adesso sopra col colpi di quegli immigrati che annegano cercando la libertà e nessuno più di tanto se ne occupa questa diciamo questo paragone che è fatto quello che è successo a lei perché noi napoletane non abbiamo avuto la sfortuna di andare in capricolo certamente grazie ai partigiani grazie ai scunizi ma lei secondo me identifica con molta chiarezza lo stato d'animo suo di Liliana e dello stato d'animo nei confronti di questi poveretti che scappano da questi paesi perché vengono capestati i diritti e tutto e che però annegano nessuno più di tanto si preoccupa di questa cosa qui io dico che anche queste cose qui sono cose che bisogna dire c'è niente da fare bisogna parlare certo non è piacevole però la vita è questa parliamolo perché non deve io ne parlo perché il futuro sono i ragazzi che stanno lì certamente non sono io il futuro dell'Italia no però quindi loro devono combattere devono evitare devono evitare che il bullismo io dico sempre ai ragazzi ragazzi il bullismo quando noi siamo andati a scuola come tutti quanti voi tutti quanti noi abbiamo preso in giro quel compagno quella compagna di scuola non ce lo dimentichiamo l'abbiamo sempre fatto o perché c'erano gli orecchi sventi o perché c'erano gli occhiali strani o perché c'erano le rimosce come ce l'ho io l'abbiamo fatto ma fin quando lo sfogalamento viene fatto da uno o due persone va benissimo perché vita lo sfogalamento è una persona di dire ma quando viene fatto da sette, otto, dieci persone non va bene perché questo si chiama bullismo e tra il bullismo e il rassismo la distanza non è lontana è molto vicina per cui voi ragazzi quando succede qualcosa di bullismo e ricordateci ai ragazzi che si sono tolti la vita per il bullismo e non è giusto quando succede un fatto del genere voi dovete denunciare ai vostri insegnanti se non avete il coraggio di denunciare agli insegnanti ditelo ai vostri ai nonni noi nonni non è che siamo scemi non è che siamo improvvisamente siamo diventati tutti scemi perché siamo nonni no io dico che parecchi di noi ragionano bene vi possono dare un bel consiglio quindi dovete denunciare il bullismo la camorra la mafia e tutte quelle porcherie e le cose che fanno contro le cattiverie contro le donne denunciatelo perché le forze pubbliche la forza pubblica è a nostra disposizione voi potete fare la denuncia anche anonima loro intervengono quindi non abbiate paura di denunciare fatelo sempre è giusto Raffaele assolutamente sì grazie grazie anche per questo questo tipo di ragionamento per invogliare i ragazzi a seguire la legalità che poi alla fine è l'unica cosa che ci può salvare non c'è altro per cui grazie io adesso darei molto velocemente perché capisco che poi andiamo a far stancare troppo tutti gli ascoltatori però ecco Raffaele voleva fare una domanda Raffaele Riccio e poi Teresa di Palma non ho capito se aveva già fatto la domanda perché mi sembrerebbe la stessa che è già stata formulata già stata ok allora rimane rimane Raffaele Riccio e poi passiamo la parola ad Ezio che ci parlerà della storia di Giuseppe Benerosi molto brevemente prego Raffaele la domanda io l'avevo scritta comunque la ripeto si ripetica se aveva avuto solidarietà dagli italiani dai miei nazionali dai nostri nazionali ha avuto solidarietà oppure indifferenza la vostra storia eccetera allora chiariamolo subito i napoletani erano contro le leggi razziali non erano a favore però non potevano apprettamente dire non sono d'accordo perché le pene del regime erano pene pesanti però bisogna dirlo che ci sono stati molti sacerdoti molte suore molti conventi molte chiesi sono aperte e hanno salvato la vita umana e se vogliamo anche noi la famiglia Foix nel suo piccolo è stata aiutata perché per esempio se non ci avesse aiutato il direttore della scuola Van Videlli a dire un falso cioè che io avevo sei anni se non avevo sei anni non sarei potuto andare alla scuola pubblica alla scuola elementare a fare l'elementare alla scuola pubblica e poi c'è stato il brigadiere di polizia di commissariato di zona quindi un uomo con le stellette un uomo un servitore dello Stato che mandò a chiamare mia mamma e disse signora Foix lei deve cambiare casa e deve trovare uno che non sia una persona che non sia di una regione ebraica che si assuma si intesti l'affitto il contratto di affitto e i contratti di acqua, gas e luce dice così un domani quando mi chiedono dove sta la famiglia Foix io dico non lo so perché all'epoca non c'era il computer non c'era il codice fiscale quindi questo è un servitore dello Stato il brigadiere Salvatore Pace io dico i nomi quando dico queste persone la terza persona è stato un amico di famiglia cattolico Marcello Magri che si intestò l'affitto e i contratti di acqua e luce ma se se avessero scoperto non è che la passava liscia con una mossa perché all'epoca le pene le pene erano corporali erano olio di ricino batosse ha capito con una bella storia per cui un aiuto da parte di queste persone anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto il nostro aiuto e se vogliamo grazie ai partigiani e agli scunizi le persecuzioni non sono partite da Napoli per cui da Napoli nessun napoletano è stato preso tranne quei napoletani che avevano delle disponibilità economiche e pensavano di salvarsi trasferente sulle montagne toscane e abruzzesi siccome purtroppo le persecuzioni sono partite da Roma queste persone sono state tutte prese e nessuno di loro è tornato anche perché esistevano anche all'epoca i denatori quel perché perché i tedeschi i fascisti mettevano dei cartelli chi denuncia la presenza di un ebreo avrà un premio di 5.000 lire e un'uncia di tabacco perché all'epoca il tabacco era razionato e per questi per prendersi questi soldi hanno denunciato questi ebrei napoletani ora diciamolo noi la famiglia mia la famiglia foa siamo diventati poveri ma non è una vergogna dire essere diventati poveri è una condizione ma forse possiamo anche dire che se avessimo avuto delle disponibilità economiche probabilmente anche noi saremmo scappati probabilmente sulle montagne toscane e abruzzesi sperando di salvarci fortunatamente siamo diventati poveri quindi possiamo anche dire che lei si diventati poveri forse è stata una fortuna non è una quota molto normale però questa è la storia non c'è niente da fare benissimo grazie allora leggo soltanto due commenti dei ragazzi che stanno seguendo un ragazzo si chiama Domenico Toscano e dice da studente vorrei ringraziare tanto il signor Tullio Foa penso che le scuole debbano essere luoghi di sensibilizzazione per quanto riguarda tali avvenimenti grazie ancora per la sua testimonianza sì poi c'è ancora Chiara D'Angelo che dice anch'io da studentessa ringrazio il signor Tullio per questa testimonianza importante e per i sentimenti che ci ha trasmesso oggi che bello ringrazio io loro Raffaella ringrazio io loro di essere venuti domenica a sentire un vecchio che raccontava le cose di 80 anni fa Domenico vuoi esprimere le tue emozioni le tue sensazioni allora in primo luogo voglio ringraziare di nuovo il signor Tullio Foa che come ho scritto in chat penso che le scuole debbano essere appunto luoghi principali di sensibilizzazione per quanto riguarda tali avvenimenti in quanto è importante ricordare per non dimenticare e soprattutto per le generazioni future certo sono d'accordo sono d'accordo con te Domenico bisogna parlare bisogna parlare raccontare come abbiamo già discusso i lezioni diciamo nostre quotidiane con la prof di Palma abbiamo visto che l'esercito preside ancora le sinagoche ebraiche quindi la mia domanda è c'è ancora odio razziale guarda l'odio da parte nostra o da parte di chi nei nostri confronti fammi capire meglio la domanda l'odio verso di noi o io che si porto odio verso di loro verso di voi verso di voi dopo le minoranze vengono prese sempre di vista c'è purtroppo un gruppo di persone di pensiero che fanno parte dei riduzionisti quelli che che dicono sì i campi concettamente ci sono stati i campi di sterminio ci sono stati ma non è che sono morte 8 milioni di persone sono morte un milione e mezzo solamente come se fosse un milione e mezzo è giustificato 8 milioni purtroppo ci sono non c'è niente da fare e allora io insieme ad altri miei amici insieme ai miei fratelli andiamo in giro nelle scuole quando voi ci chiamate perché se non mi chiamate non vengo l'unico problema mio è che se volete che venga a scuola mi dovete venire a prendere perché guido ancora però è opportuno di guidare poco perché perché c'è un top toppa gente che potrebbe andare in conto a dei pericoli con la mia guida ecco per cui bisogna parlare bisogna parlare e raccontare nel modo più semplice possibile senza io vado anche nelle scuole io parto dalla quinta elementare in su quindi chiaramente quando vado in quinta elementare parlo in un modo tipo favoletta perché bisogna anche non martorizzare questi ragazzi però bisogna raccontare c'è detto da fare bisogna raccontare che quando ti racconto la mia storia io ti dico quello che è successo a me poi tu ci puoi credere non ci puoi credere c'è poco da fare però questa è io te la racconto papalle papalle e poi sperando che voi è cascato il cosa aspetta è cascato il tablet eccoci qua eccoci stava cascando Teresa Di Palma con tutto il tablet non si preoccupa va bene grazie grazie Domenico allora adesso andiamo verso le conclusioni con una domanda di Angela Natale e poi diamo la parola a Ezio che ci parla un po' facciamo le conclusioni che parliamo però accenniamo a questa storia di Giuseppe Veneroso ok allora Angela sarò veloce allora una risposta a Raffaella quando ha detto noi abbiamo organizzato siamo stati ad Auschwitz quindi organizziamo con la scuola visite guidate lì perché non si può dimenticare una cosa del genere il signor Tullio è stato il suo racconto è stato molto emozionante mi sono emozionata molto ancora quando vedo i film piango vedo i film e piango quindi è stata una forte esperienza io organizzo anche eventi a scuola quindi sarà appena la situazione ritornerà normale in presenza sicuramente inviterò il signor Tullio vi verremo a prendere a Napoli e quindi abbiamo un'aula magna bella grande capiente quando potremmo entrarci tutti e volevo chiedere una cosa al signor Tullio non so se la risposta c'è però me la chiedo io e quindi la chiedo anche a lei signor Tullio qual è il sentimento adesso ora oggi che si che si prova perché io credo che la cosa più difficile è perdonare ok almeno per me anche dalle cose più piccole alle cose più grandi qual è il sentimento che adesso un ebreo prova per quello che è successo per le persone che hanno fatto questo al di là poi che c'è stata una giustizia con gondanne eccetera eccetera però non riesco ad immaginarlo quali possano essere i sentimenti non so se lei può rispondere e poi signor Tullio aggiungerei un'altra cosa quella lettera scritta ai docenti alla scuola eccetera dice oltre all'istruzione oltre a tutte le materie a quello che si deve studiare nella scuola eccetera l'italiano la geografia l'economia o insegno economia economia aziendale e tutto e tutto quello si deve si deve insegnare o si addentro ad essere umani però io dico che è importante anche la coscienza civile cioè creare una coscienza civile da saper fare delle scelte quando veniamo chiamati a fare delle scelte le scelte giuste anche questo è importante nel sistema educativo nella scuola grazie grazie per la serata ma aspetti Angela Angela aspetti che risponda alla prima domanda sì grazie la domanda del perdono allora c'è una differenza tra la religione cattolica e la religione ebraica nella religione cattolica si perdona sempre nella religione ebraica no nella religione ebraica si perdona se tu Angela mi hai fatto qualche cosa e mi chiedi vieni senti ho sbagliato ti chiedo scusa allora finisce lì ed è finita la storia ma a me non risulta che i gerarchi tedeschi i nazisti quelli che sono scappati dalla Germania che sono scappati dall'America Latina anche con l'aiuto di alcuni governi europei una volta presi dai servizi segreti israeliani e portati in Israele dove sono stati processati e condannati nessuno mai di loro ha chiesto perdono mai allora a questo punto io chiedo cosa devo perdonare devo perdonare a prescindere che sono forse l'ultima persona a questo mondo di dover perdonare qualcuno però di fronte a quella gente lì che non hanno detto scusate ho fatto uno sbaglio sono stato comandato no no era tutto dovere e quindi non hanno mai chiesto perdono e quindi io non devo perdonare nessuno quindi come vede ho risposto alla domanda del perdono non sono scappato ancora sono ancora qui ecco c'è quello importante che i nostri giovani capiscono perché l'unica cosa che possiamo fare è quella di evitare evitare di far perdere Cristo quindi certo e questo e questo è il motivo di perché io mi rivolgo sempre ai ragazzi che gli voglio raccontare quale è stato il mio giorno più bello quando sono tornato a scuola insieme a tanti ragazzi ragazzi immaginate per cinque anni sempre noi dieci poi siamo diventati otto sette sei quattro e poi improvvisamente mi sono trovato in mezzo a una marea di ragazzi e ragazze non capivo niente infatti vi dirò che i primi giorni di scuola mi ricordo l'insegnante di lettere faceva l'appello e chi da noi mica facevano l'appello eravamo in quattro quindi l'insegnante guarda uno due tre quattro state lì quello faceva l'appello e chiamava e io non sapevo che fare stavo seduto poi i compagni si divertivano che poi a scuola è così quando si vede uno che è un po' imbranato gli altri ci divertiamo a prendere in giro poi a un certo punto uno mi ha dato una comitata e mi ha spiegato che mi dovevo stare e dire presente ma per me era una novità grandissima e queste sono delle piccolezze che faranno ridere anche però sono piccolezze difficoltà che io ho incontrato andando alla scuola media con tanti ragazzi e tante ragazze no perché la scarsa era maschile entravamo insieme alle ragazze proprio le ragazze andavano da una parte e i maschi dall'altra non è come ora che stanno tutti insieme beati loro a tempi inersi no noi eravamo non eravamo beati eravamo solo maschi solo uomini grazie ecco allora la storia di questo signore eh sì sì ci avviamo ci avviamo soltanto un ultimo ringraziamento da parte del del professor Michael Shano che sta parlando dall'Olanda scrive dall'Olanda ci sta seguendo per tutto in particolare per il simbolo dell'entrata secondaria della scuola e quella e dell'associazione di questo simbolo con la dignità umana non è una domanda ma è un apprezzamento allora a questo punto passiamo la parola a Ezio che ci racconta che va verso le conclusioni e parla anche del signor Giuseppe Peneroso e della sua storia prego come si chiama quel professore che fa parte a Salerno dei Rotary che mi dovrebbe chiamare non so se mi chiamano non so chi è Angelo Gentile Angelo Gentile Gentile? sì Angelo Gentile e il nome? Gentile Angelo Gentile ok perfetto ok fatto tutto vai Ezio vai ecco io una curiosità e poi do la parola a Massimino Giannone proiettando alcune alcune figure che relative a questo a questo signore di cui parleremo la mia curiosità è questa Tullio come mai a Napoli non c'è stato mai un ghetto degli ebrei così come in moltissime città europee e anche italiane c'era mi stai dare un'aspirazione a questo a questo fatto a Napoli non c'è stato mai il ghetto perché tieni presente che nel periodo aureo della comunità ebraica di Napoli eravamo 800 per il periodo aureo perché arrivavano da Salonico tanti ebrei greci ma attualmente pensa che siamo 160 quindi siamo una minoranza della minoranza 160 da uomini e donne eh attenzione non 160 uomini 160 da uomini e donne e il ghetto a Napoli non c'è mai stato c'è stata una zona eh infatti tu hai fatto vedere prima eh la giudecca e il del 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 stradale con delle decidure ebraiche c'è stato un insediamento ma stiamo parlando negli anni 800 700 un insediamento ebraico in quella zona lì che era la zona ebraica ma eh dei tempi miei diciamo eh dei tempi del 900 non esiste più quelle quei possiedi rimasta una cosa storica e niente più va bene grazie allora io adesso faccio scorrere la parola a massimino di andone scusi massimino un momento c'è la tenenza che abbiamo lasciato il dito sì un'ultima signor arturio quale quale fu il ruolo quale fu il ruolo della chiesa voglio dire la sua famiglia ricevette un supporto dalle istituzioni religiose del tempo no da Napoli non Napoli io mi sono sempre chiesto il ruolo economica è un'aiuta economica da parte della comunità ebraica no perché la comunità ebraica è stata sempre di Napoli è stata sempre molto povera che si è mantenuta con noi paghiamo delle tasse che il governo italiano delle tasse che vengono che non vengono date tutte quando paghiamo le tasse non diamo tutto al governo italiano ma una minima parte viene data per la comunità ebraica una cosa riconosciuta tra lo Stato e la comunità una piccola e con quella cifra lì si va avanti con donazioni eventualmente di ebrei che hanno avuto parenti che vivevano qui e che donano qualche cosa ma io mi riferivo io mi riferivo però alle istituzioni religiose e cattoliche ah no 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 grazie grazie questo è fondamentale prego Massimilio allora se puoi spiegare la si io faccio scorrere le foto va bene prego prego posso posso loro un grazie a Tullio Foa perché il suo racconto è una tantissima e immagino l'efficacia verso i ragazzi a cui si rivolge ed è un fatto bellissimo allora il racconto di questo mio compaesano è abbastanza strano nel senso che io l'ho conosciuto personalmente lui è stato a Pisciotta fino ai 19 anni ha aiutato il padre pescatore poi è partito e si è ruolato nella guardia di finanza quando è tornato a Pisciotta dopo il 1940 soltanto per le vacanze estive in realtà si parlava delle sue storie da militare eccetera però non ha mai accennato a questa vicenda importantissima che lo ha dunque di cui è stato protagonista questa storia perciò lo possiamo così un po' definire l'eroe silenzioso perché sta storia è venuta fuori soltanto negli ultimissimi anni cioè molto di recente lui è stato sempre restivo a parlarle lui in realtà è stato Angela un'altra diecina di finanzieri al servizio di Giovanni Palatucci che era a fiume e come dice questore e quindi questo gruppetto che lo stesso Palatucci diceva Giuseppe Veneroso ha definito la squadra della morte per i grossissimi rischi che insomma cui andavano incontro ogni giorno questa squadra in realtà ha salvato migliaia di ebrei perché tra Buccari e fiume loro guidati dal Palatucci facevano passare e quindi fornivano passaporti falsi lascia passare ai tantissimi ebrei che dalla Serbia e poi dai paesi dell'est europeo attraversavano il confine verso fiume verso Buccari venivano quindi in quel territorio dove il vicequestore Palatucci era l'addetto all'ufficio stranieri e da questo Palatucci ricevevano passaporti falsi o lascia passare che servivano loro per passare il confine e quindi raggiungere o l'Italia o altri paesi o la Svizzera oppure molti la Palestina o l'Italia meridionale questo Giuseppe Veneroso che è morto nel 2009 il figlio ha raccontato che la sua storia è venuta fuori soltanto negli ultimi anni per un fatto occasionale un fatto fortuito e cioè lui era già anziano siamo già nel 2006 2007 lui è morto nel 2009 dice si trovava in un val barbiere e ha avuto tra le mani la famiglia cristiana la rivista e ha letto un articolo riguardante il Palatucci che in quel momento era stava cioè per il quale era stata istruita una un processo di beatificazione allora lui praticamente è saltato sulla sedia dice ma c'ero pure io insieme a questo Palatucci c'ero pure io dopodiché lui ha contattato il cardinale che si interessava del processo di beatificazione ed è stato contattato da da un giornalista di di avvenire Picariello al quale praticamente ha dato il suo racconto e quindi ha spiegato che questo Palatucci cercava delle delle persone molto fidate diceva Palatucci non si fidava della polizia non si fidava dei carabinieri voleva dei finanzieri quindi ha chiesto persone che non di quelli buoni fidati che non parlano e non bevono quindi ha costituito questo gruppetto di una diecina di finanzieri parte dei quali erano al confine parte al porto e il nostro Giuseppe Veneroso era proprio al porto di servizio al porto di fiume per cui si sono diciamo a rischio della vita loro arrivavano questi ebrei dall'Europa orientale o dalla Serbia dove c'erano gli Ustasha che erano al servizio un po' dei nazi fascisti e loro li lasciavano passare li lasciavano entrare poi il Palatucci provvedeva a rifornirli ripeto di passaporti falsi o di lasciapassare con il visto della questura e quindi questi ben sapendo il Veneroso e gli altri suoi colleghi che erano ovviamente passaporti falsi eccetera ha accettato di buon grade il rischio di essere scoperto dalle SS o dai militifascisti e li lasciavano imbarcare oppure oppure davano le istruzioni per attraversare il confine terrestre parte di questi ebrei non moltissimi sono arrivati anche qui a Campagna dove il Palatucci aveva uno e gli aiutava dopo l'8 settembre sarò brevissimo concludo subito dopo l'8 settembre questo Giuseppe Veneroso il quale poi si è schernito anche con un giornalista dice ma io non sapevo di aver fatto una cosa tanto importante pensavo solo di aiutare delle persone ad evitare il lager a queste persone dopo l'8 settembre lui in maniera un po' rocambolesca ha raccolto la bandiera italiana se l'è cucita nella giacca è arrivato a Roma e da finanziere è entrato nel partigiano delle gamme gialle in uno scontro con i tedeschi è stato anche ferito per cui questo personaggio che ripeto è abbastanza importante è il depositario di una storia che abbiamo scoperto soltanto due o tre anni fa dopo che ha parlato con questo giornalista dopo che il figlio ha raccontato poco le circostanze di queste sue di queste sue vicende tutto qua perché Palatucci è stato iscritto nel libro dei giusti di Israele certo se potessi avere notizie un pochino più dettagliate di questo signore che lei mi stava raccontando si potrebbe vedere di cercare di coinvolgere l'ambasciata di Israele per fare un qualcosa a suo nome ma bisognerebbe avere delle notizie abbastanza dettagliate e precise allora le notizie ripeto sono un poco il frutto della testimonianza che lui ha reso a questo giornalista di avvenire è di un racconto del figlio perché lui ovviamente non ha scritto niente non ha lasciato niente per il scritto né ci sono documenti d'altra parte lei sa benissimo che su Palatucci c'è anche un po' controversa la figura del Palatucci perché c'è stato il centro a New York il centro Primo Levi mi pare Sender che diciamo ha un po' contestato questa figura del Palatucci dicendo che non era vero che gli ebrei salvati erano tante migliaia però pare che in effetti le ultime testimonianze gli ultimi documenti diano ragione al Palatucci tra questi per esempio anche il nostro amico storico Francesco Barra ha scritto di queste vicende e quindi pare che la storia debba essere effettivamente accettata perché vera va bene grazie grazie credo che dobbiamo ringraziare il Tullio Fua per la testimonianza che ci ha fornito tutti quanti noi dobbiamo pensare ancora sempre a questo a quello che è avvenuto diciamo pochi decenni fa anche diciamo a un revascismo anti-ebraico che in maniera silente si sta rivelando nei paesi europei in particolare in particolare la Francia e altri paesi ma anche da noi c'è qualche cosa dobbiamo avere la massima attenzione dobbiamo stare attenti la memoria fondamentale è il coinvolgimento della scuola è ancora più importante e per cui devo ringraziare gli alunni che hanno partecipato e credo che questa diciamo collaborazione con la scuola in questi temi deve essere sempre più importante che la memoria noi la dobbiamo travasare nei giovani e nei ragazzi io credo che poi possiamo chiudere se tu lo vuoi chiudere con due parole no? tu lo vuoi chiudere vuoi chiudere tu con due parole o chiudo io? io sto a posto io vi ringrazio io vi ringrazio solamente siete stati gentili siete stati affettuosi siete stati a sentire quello che raccontava un vecchio purtroppo è così però io sono vecchio solo sulla carta di identità il resto sono giovane ancora non vi preoccupate scherzo io Ezio perché bisogna scherzare è veramente un bel personaggio ecco questo è quello che io voglio una bella personaggio quando comincia a dire no Ezio mi preoccupi però quando comincia a dire uno quello è un bel io mi preoccupo di quello che è bello bello perché sei bello bello anche nel senso fisico ok va bene per i contenuti che hai e per la capacità che hai avuto di travasare questi contenuti verso di noi e anche verso i giovani grazie grazie buonasera a tutti ci vediamo dopo Pasqua con gli altri eventi noi qui siamo aperti a recepire suggerimenti per altre iniziative va bene e quindi siamo qui un saluto affettuoso a tutti quanti voi se non ci sentiamo buona passo a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti